Quinta tappa per la Rassegna Frimos, il progetto della Fondazione Maria Carta, ideato per combattere lo spopolamento di piccoli paesini nell'isola. L'evento musicale parte domani alle 21.30 a Collinas, un paese popolato da poco più di 800 abitanti. La serata inizierà in Piazza Tuveri, con le esibizioni di Ignazio Cadedu, guitarrista e ricercatore in etnomusicologia, i Double Dose, formazione sassarese, che da qualche anno ormai reinterpretano, secondo il loro stile, vecchi brani della tradizione sarda. Il grande suonatore di Launeddas Giancarlo Seu, l'artista Beppe Dettori, che domenica scorsa a Siligo ha ricevuto il premio Maria Carta, insieme all'arpista Italo Helvetico Raul Moritti, con il quale ha realizzato un lavoro discografico che riprende alcuni brani della cantante Maria Carta, interpretati in maniera personale ed originale. Oltre agli artisti, è stato premiato anche Antonello Fadda, titolare dell'azienda grafica Character. Questo riconoscimento conferma che la nostra azienda è sulla strada giusta, merito anche di un'eccellente squadra di lavoro, ha dichiarato Fadda. È impreziosire la serata il duo dei fantafolk, con i brani tradizionali sardi miscelati con i nuovi genri, e Giovanna Maria Cherchi, una delle voci femminili che meglio caratterizzano l'isola.